49esimo appuntamento radiofonico settimanale con la voce al sindaco, la rubrica di approfondimento della testata giornalistica di Radio Dimensione Musica. Il primo cittadino pozzallese Roberto Amatuna discute al microfono del nostro direttore responsabile Piero Giunta sui fatti sociali e politici avvenuti durante la settimana appena trascorsa. Il sindaco Roberto Amatuna fa come sempre il preciso e puntuale punto informativo settimanale sulla situazione del Covid-19 a Pozzallo. Il primo cittadino ragiona, voce alta alla voce al sindaco, sull'approvazione da parte del Consiglio Comunale del progetto per la realizzazione del presidio territoriale di assistenza. Inoltre il primo cittadino riflette ai nostri microfoni sull'attività politica amministrativa che ha caratterizzato la settimana appena andata via e che ha visto il primo cittadino pozzallese proporre la mozione al Consiglio Comunale per il conferimento della cittadinanza onoraria al corpo della Capitaneria di Porto di Pozzallo. Ascoltiamo Roberto Amatuna. Sindaco Roberto Amatuna, sono 49 le nostre chiacchierate radiofoniche del martedì con la voce al sindaco. Come sempre apriamo la settimana politica a Pozzallese con la sua voce che ci dice gli ultimi aggiornamenti sul Covid. La situazione per quanto riguarda il Covid è in progressivo anche se lento miglioramento. Siamo arrivati a sette casi positivi e tutto questo non può che essere un dato che è confortante. Nella giornata di ieri è stato organizzato ed è stato operativo un ulteriore drive-in per l'esecuzione dei tamponi rapidi. Però ecco ancora una volta io mi sento in dovere di fare un appello. Vaccinatevi, vaccinatevi tutti il più possibile. Il più possibile. Questo è l'unico strumento indispensabile per cercare di battere il virus. Tanto più in una città quale quella di Pozzallo in cui c'è molta gente che è costretta alla mobilità non solo con gli altri centri italiani ma con i centri di tutto il mondo. Il Pozzallese è un marittimo. Il Pozzallese ha tanti giovani che lavorano nella cantieristica, nel Nord Italia. Pozzallo ha tanti altri giovani che lavorano nella logistica e nelle industrie, negli idrocarburi, in tutte le parti del mondo. Quindi c'è un'eccessiva mobilità. E quindi se è giusto come è giusto in tutto il mondo, eseguire la vaccinazione è tanto più indispensabile e necessaria in una città come Pozzallo. Stiamo andando bene. Vuol dire che c'è un maggior senso di responsabilità nei comportamenti. e speriamo di continuare su questa strada. Il Consiglio Comunale Pozzallese ha approvato il progetto per la realizzazione del Presidio Territoriale di Assistenza. Sindaco, le chiedo ancora una volta la sua riflessione. È una struttura sanitaria la cui realizzazione trova particolare importanza in questo periodo storico in cui siamo stati afflitti e colpiti in una maniera così grande dalla pandemia che è stata determinata e provocata dalla Covid. Ed è una struttura a cui io sono particolarmente legato e affezionato perché è finanziata con fondi della legge 67 del 1988 che è quella legge che eroga dei finanziamenti per la costruzione di nuove strutture sanitarie e per l'ammodernamento di altre strutture sanitarie. Nel 2010, quando ero parlamentare all'Ars, feci inserire questo finanziamento. Purtroppo questo è un finanziamento che può essere erogato solo se c'è un accordo tra Regione e Stato. Tutto questo è stato possibile un anno, un anno e mezzo fa. È stato fermato un accordo di programma tra lo Stato e la Regione in cui era contenuto questo finanziamento, che è il Presidio Territoriale di Assistenza. E se mi consente, poi posso dire anche che sono particolarmente affezionato al PTA, che è una struttura sanitaria importante, perché è una legge approvata sempre in quegli anni in cui ero parlamentare e diedi allora un contributo determinante alla scrittura di questo articolo che poi abbiamo approvato in avola. Che cos'è un PTA? È un Presidio Territoriale di Assistenza in cui sono contenute tante branche della medicina. Prima di tutto il Presidio Territoriale di Emergenza, e quindi dei servizi di emergenza. Le strutture e i servizi di continuità assistenziale, ad esempio la Guardia Medica. I poliambulatori specialistici, che sono delle strutture ambulatoriali e dirette dalla medicina di base. Quindi una struttura sanitaria a cui tutti i pozzallesi si possono rivolgere ed è un'offerta sanitaria che è dedicata a tutta la città. Questo Presidio Territoriale di Assistenza, questa struttura, viene allocata in un punto strategico della città di Pozzallo, ma io direi di tutto il comprensorio della Sicilia suddiorientale. Ed è allocata tra l'hot spot, la struttura portuale, la zona industriale e il centro operativo misto di Viale Australia. Una struttura che è molto utile, ma che rende urbanisticamente più bella e migliore la nostra città perché si trova proprio all'entrata di un'arteria fondamentale che è quella della Ragusa-Pozzallo, che è veramente un bel biglietto da visita. E parliamo dell'attività politica della sua amministrazione. Lei ha proposto al Civico Consesso Pozzallese il conferimento della cittadinanza onoraria al corpo della Capitaneria di Porto. A lei la voce e il microfono, Sindaco. Ho inviato una nota al Presidente del Consiglio Comunale e ho proposto una bozza di ordine del giorno in cui è prevista, se il Consiglio lo riterrà importante e penso che lo riterrà, la cittadinanza onoraria alla Capitaneria di Porto di Pozzallo, agli uomini e le donne della Guardia Costiera per il servizio che hanno svolto in questi anni. Neanche questa è una struttura a cui il legame che io ho è particolarmente stretto e forte. Fu in data del 2001, nell'agosto del 2001, che fu istituita con decreto del Presidente della Repubblica la Capitaneria di Porto a Pozzallo. Io allora ero Sindaco. Insieme al sottosegretario Chepindi, suo segretario particolare Stornello, ci impegniamo al massimo per istituire questa importante struttura di legalità in città e poi abbiamo visto negli anni quanto importante era questo tipo di presidio a Pozzallo con il fenomeno degli sbarchi. Era il sogno di intere generazioni di pozzallesi, quello di avere una Capitaneria di Porto a Pozzallo e l'abbiamo avuta. Quest'anno noi celebriamo il ventennale di quella istituzione e lo vogliamo fare nel modo migliore possibile. Primo con la cittadinanza onoraria agli uomini e alle donne della Capitaneria di Porto e poi con un convegno, con una pubblicazione che sicuramente sarà pubblicizzata entro il corso dell'anno. e questo penso che sia il modo migliore per celebrare e festeggiare quell'avvenimento che ripeto ancora una volta è stato il sogno che si è concretizzato di decine e decine di generazioni di pozzallese e di marittime. Con la voce al sindaco appuntamento a martedì prossimo. Ringrazio Roberto Amatuna Piero Giunta per Radio Dimensione Musica